... Ma, ciao, come ti chiamo? Ciao, mi chiamo Francesco, e tu? Io mi chiamo Antonietta, ma che bel nome che hai! E io, ti piace? Sì, sì, è molto carico. Ma, perché ti ha già stato visto? Un gruppo di ragazzi, è nel giro perché sono fan. Ah, mi dispiace. Vuoi venire a giocare con me? Ok, sì, gentile. A cosa vuoi giocare? Sei un calciatore? Sì, mi piace abbastanza, ma non ho molto la mamma. Allora giochiamo al secondo, dove si dà? Danza o balla? No, facciamo balla. Per poter meglio giocare, di regole, dobbiamo mancare. Punto primo, amicizia, confrontarsi e non litigare. Punto secondo, perdere senza capitare. Punto terzo, amicizia è conoscersi e amare. Grazie. Grazie.